Un sito, un blog, volevo capire uno come comunica con gli utenti della rete e cosa pensa dell'informazione dal basso sulle tematiche ambientali? L'internet è così grande come un resource per gavere informazioni e per educare noi stessi, è proprio indispensabile ora. E non ho un team per il mio sito, è solo un progetto che posso fare quando non ho lavorato, quando ho tempo. Ma, ultimamente, voglio creare un sito reale community, così che le persone possano share informazioni, perché ho molti e-mails di persone che hanno grandi idee e che vogliono comunicare con gli altri. Quindi voglio creare un portal per questo, ma penso che ora sto facendo il mosto che posso con il tempo che ho avvato, con gli articoli e i videoblogs, e questo tipo di cose. Ma penso che la parte di comunità è importante, perché le persone possono interagire con gli altri, ma è un risultato indispensabile per trovare informazioni. Grazie.